Due giorni dopo l'attentato kamikaze ad Ankara scatta il pugno duro di Erdogan. Il presidente turco ordina una maxi retata contro il PKK che ha rivendicato l'attacco e qualsiasi persona sospettata di terrorismo. 13.400, gli uomini delle forze di sicurezza turche impegnati. I blitz sono scattati prima dell'alba in 64 dalle 81 province del paese. Alla fine saranno oltre 900 gli arresti per contrabbando di armi e possesso di armi, sequestrate 800 armi da fuoco, 90 degli arrestati sarebbero membri o presunti fiancheggiatori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, organizzazione considerata terroristica in Turchia e in diversi paesi occidentali. Alcuni sarebbero direttamente o indirettamente legati al presunto attentato terroristico di domenica quando un uomo sceso da un veicolo commerciale di marca francese si è fatto esplodere all'ingresso della Direzione Generale della Sicurezza del Ministero degli Affari Interni nella capitale turca.